Un progetto importante, vorrei andare al museo, è sicuramente un progetto insieme al Castelo per la Scultura che vuole promuovere l'inclusione e vuole promuovere l'accessibilità. È molto importante per l'amministrazione comunale promuovere queste due cose, aiutare tutti i cittadini, il benessere anche sociale dei cittadini e soprattutto anche l'abbattimento delle barriere, tutti i tipi di barriere, barriere sociali, barriere cognitive, barriere sensoriali. Sono tanti partner che ci sostengono e ci aiutano in questo progetto e sono tante anche le attività che fanno parte del progetto stesso. Abbiamo sia il progetto appunto l'attività sull'Alzheimer con il Bartolea Caffè, ma abbiamo anche attività con bambini, adolescenti, autistici. Poi abbiamo il progetto, l'attività con le donne per quanto riguarda il progetto Faisa.